eccoci ciao francesca grazie di aver accettato l'invito per fare questa intervista in cui parleremo di pratica filosofica ciao andrea grazie dell'invito chiedo di presentarti sono francesca greco ho studiato filosofia storia della filosofia a catania e poi ho iniziato un dottorato in germania in questo momento mi trovo in germania e ho avuto i primi approcci diciamo con la pratica filosofica pochi anni fa due tre anni fa tramite un corso un master di secondo livello all'università di di vienna e senti cosa che hai studiato in questa università di vienna hai avuto la possibilità di conoscere questa pratica ma per le altre cose cosa cosa fate cosa si fa in quell'università in quel corso il corso si chiama filosofice praxis proprio pratica filosofica e ci sono stati presentati tantissimi approcci anzi devo dire che proprio quello di brenefier dove insomma ci ritroviamo di più noi è quasi marginale sono stata invitata l'anno scorso ottobre a prendere parte di una discussione insomma per un congresso da parte della della società che gestisce anche questo questo corso di studi e notavo nelle nelle varie discussioni che proprio la la pratica così come svolta da brenefier molto molto diciamo al limite di quello che invece loro pensano sia o possa essere la pratica filosofica nonostante si dicano molto aperti ovviamente in che senso è al limite la mia impressione è che la reputino eccessiva che è troppo analitica è troppo frontale troppo aggressiva quasi ok questa è la percezione che ha diciamo un po il mondo accademico della pratica filosofica stile brenefier giusto sì anche se sinceramente proveniendo anche io insomma dal dal mondo accademico quello che fa brenefier lo vedo molto più vicino alla alla filosofia classica per come l'ho studiata io perlomeno aspetto a quello che altrimenti ci hanno presentato nel corso come pratica filosofica ok quindi dalla tua prospettiva è il mondo accademico che si è distanziato più dalla filosofia antica e classica rispetto alla pratica filosofica che hai scelto di portare avanti diciamo che nel in questo corso di studi nonostante sia l'unico corso universitario all'interno del mondo tedesco uno dei punti fondamentali è che la pratica filosofica si distacca dalla pratica accademica diciamo della filosofia questo è un punto critico molto importante che altrimenti non so nella pratica di brenefier non l'ho percepito come un punto fondamentale ma senti giusto per curiosità quali altri approcci hai conosciuto all'università di vienna ho conosciuto la deep philosophy di rahan la ho conosciuto la dialogue philosophy una pratica basata molto sul dialogo di panfait rule pratiche basate più sul corpo cos'altro una filosofia del racconto di l'inset filosofia in istituzioni mediche diciamo in per esempio case di riposo cos'altro anche nelle aziende nelle imprese una miriade di approcci diversi e senti permettemi di chiederti perché hai preferito la diciamo lo stile di oscar brenefier rispetto agli altri mi ha colpito subito nelle due ore di workshop che ha fatto all'interno del nostro corso che si trattava molto di dividere le questioni in due o perlomeno nel nostro gruppo uno dei problemi principali era quello di dire o sì o no non ce la facevamo l'approccio al dualismo che lui ha avuto appunto nei confronti delle nostre risposte mi ha non lo so mi ha fatto esplodere la mente io scrivo ancora il dottorato tra le altre cose scrivo sul dualismo nel paper che dovevamo consegnare come come compito no a casa per superare l'esame dovevamo scrivere due tre pagine su quello che avevamo visto nostre impressioni me ne sono uscite undici quindi ero proprio presa da un rush ma senti so che hai citato un po questo tipo di domanda che in realtà è una di tante domande che emergono nella pratica filosofica tu facevi riferimento alle yes no questions quindi alle domande chiuse diciamo no provo a spiegare un po a chi magari non conosce la pratica il senso di questo tipo di domande e anche la difficoltà che possono generare queste domande se non ricordo male per esempio una delle domande che ci ha affaticati molto è stato quello se se siamo delle persone impulsive o no più riflessive o più impulsive e la maggior parte di noi non volevano rispondere sì o no perché si si sentivano come franciati in due no come non se io rispondo non sono io completamente ovviamente qui è subentrato anche il tema della completezza della sicurezza dell'interezza ma per me era più importante quello della scelta sì o no non so ho avuto un po un'illuminazione nel senso che se io dico sì o no se io dico sì sono evulsiva a questa domanda adesso in qualche modo sto mostrando tutta me stessa perché sono nel momento non ho bisogno di mostrare una tutta me stessa nella quantità non so bene se riesco a spiegare questa idea che è quello che vogliono fare la maggior parte delle persone ho capito bene tu dici che rispondendo prendendo una posizione o sì o no o bianco o nero diciamo riveli qualcosa di te proprio nell'atto di prendere una posizione più che nel tentare di rimanere nell'indeterminato nella complessità nel tutto io anche più che nel tentare di fare una frase articolatissima con tutti gli aggettivi possibili che comunque non descriveranno la mia interezza e quindi il modo in cui magari anche domande così semplici ma così difficili riescano a mostrare degli aspetti diciamo del modo di pensare delle persone mi sembra di capire sì sì e soprattutto che nel momento della mia decisione io sono davvero intera diciamo è la purezza della mia decisione sul sì o sul no in quel momento che mi fa comprendere quasi per intero questo è un concetto interessante tra l'altro cioè l'interezza che deriva da l'accettazione di una separazione di non essere tutto no sia più completi nella nella scelta che implica una rinuncia che nella restare in questo limbo in cui si può essere tutto ma di fatto non sia nulla poi ok ok interessante questo aspetto e senti è in generale come descriveresti la pratica filosofica come la definiresti non lo so è difficile definire mi piace farla e basta è una definizione non non lo so per me è divertimento quando quando pratico mi diverto rido un sacco è una una scoperta continua di di te dell'altro di possibilità ah ok ti stavo giusto per chiedere cos'è che ti diverte tanto mi sembra di capire che sia il fatto di di scoprire aspetti nuovi del tuo modo di pensare di te stessa sì o anche del modo di pensare degli altri per esempio quando o io faccio le domande o altre persone ricevono ricevono domande fanno le domande mi incuriosisce come le reazioni possono essere molto diverse tra loro poi nella in questa pratica tendiamo diciamo a direi quasi stereotipizzarle no per avere una tipologia grossomodo una categoria nella quale muoverci ma quello che che in realtà mi mi diverte sono le le sfaccettature delle delle persone che che mostrano rispondendo le domande ho capito e senti prima accennavi a una difficoltà specifica quella per esempio implicata da alcune domande diciamo chiuse strette no ma in generale quali sono le difficoltà che hai incontrato nel approcciarti a questo metodo e o quali difficoltà hai visto nelle persone che si approcciano a questo stile di pratica filosofica credo che la difficoltà più grande sia quella di ripensarsi magari siamo abituati a ad essere in un certo modo c'è stato detto che siamo in un certo modo io sono una persona ordinata non lo so io sono una persona razionale e quando invece poi ti scopri in un altro modo scopri quella parte di te che ha difficoltà appunto fare delle scelte ha difficoltà a trovare una parola ti devi ridefinire in qualche modo devi cambiare o devi accettare il cambiamento che è già avvenuto diciamo credo che questa sia la parte più dura ma superata questa poi è anche la parte più bella ok quindi diciamo il bello e il difficile della pratica è un po' l'effetto trasformativo a cui ti costringe no e a cui devi essere in qualche modo disponibile altrimenti diventa diventa tosta ok e senti a proposito visto che mi citi l'effetto trasformativo non posso non chiederti che trasformazioni ha generato nel concreto nella della tua vita questo percorso di pratica filosofica che continua a portare avanti sicuramente questa pratica mi ha dato molta più leggerezza e anche più sicurezza in me stessa in qualche modo o nell'idea che io basto così come sono ok quindi più leggerezza più autonomia mi sembra di capire sì bella traduzione e senti vorrei chiederti adesso rispetto al rapporto con la filosofia invece accademica perché tu vieni da quel mondo no al mondo accademico allora vorrei chiederti innanzitutto se lo studio della filosofia accademica per come si fa nelle università può essere secondo te utile propedeutico alla pratica filosofica o invece può porre delle resistenze o magari tutte e due le cose bella domanda propedeutica penso di no per per le persone che che prendono parte ai workshop o che che vengono come come consultante non è necessaria la conoscenza filosofica della storia della filosofia o di un percorso insomma di studi filosofico dal punto di vista del consulente o filosofo diciamo è un tipo di conoscenza che serve nel momento in cui tu la la butti la butti via è inutile aver presente esattamente cosa dice cartesio cosa dice kant cosa dice non so chi nishida io mi occupo di filosofia giapponese è importante che tu riesca a lavorare con queste idee quindi la storia della filosofia è un meraviglioso ricettacolo diciamo di idee che tu potresti utilizzare nel momento in cui i pratichi ma nella pratica in realtà devi essere al cento per cento in dentro la situazione non hai il tempo di andare a prendere gli strumenti in giro per per le stanze del tuo cervello del tuo corpo ok mi sembra che tu abbia un piede nel mondo delle pratiche e un piede nel mondo accademico come vivi questa situazione in cui sei un po a proposito di dualismo divisa scissa in due dimensioni diverse sì ricevo battutine mi sembra da entrambi i mondi dal mondo accademico tipo ah vabbè tu fai cose così un po di aria fritta con le farfalle tanto per per far finta che la filosofia sia per tutti e invece dall'altro lato ricevo l'accusa diciamo di essere troppo accademica troppo rigorosa a spaccare il capello in quattro e questo è il prezzo da fare quando non si è interamente in un solo cammino diciamo ma si tengono assieme più dimensioni però può essere anche interessanti secondo me proprio entrambi i mondi in realtà si fertilizzano diciamo a vicenda io ho notato per esempio nella maniera in cui parlo alle conferenze o scrivo gli articoli scrivo il dottorato che posso essere più chiara riesco a eliminare le cose superflue cose che magari voglio dire perché mi piacciono però dicono aspetta aspetta no qui fa solo confusione se dico questa cosa e nella nella vita di tutti i giorni anche la la pratica mi aiuta nella nella discussione con con amici e parenti e anche a chiarire le mie stesse idee con gli altri farmi capire ok quindi insomma la pratica filosofica ti ha aiutato ad essere anche più chiara e magari più efficace anche quando devi realizzare delle attività all'interno del mondo accademico oltre che nella vita ok anche per questo forse insomma poco fa mi è venuto un po difficile dire la storia della filosofia non serve nella pratica perché insomma a me piace molto utilizzare le parole o i concetti che i filosofi hanno costruito nell'arco dei millenni e che dal mio punto di vista sono molto molto precise subito mi danno un'idea di quello di cui sto parlando senza dover troppo descrivere quindi l'accademia mi aiuta dall'altro lato però la pratica mi aiuta a parlare di questi concetti senza lasciarli tra le nuvole no portandoli diciamo giù sulla terra rendendoli utilizzabili e non solo prenderli come cose belle da 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 pronunciare ok quindi so capito bene il mondo accademico ti offre la possibilità di acquisire diversi contenuti e diverse idee che fanno parte del bacino della storia della filosofia la pratica ti aiuta un po a metterle in atto in delle vive quelle nozioni no e non vale rimanere passive in un certo senso sì proprio renderle vive senti ti farei altre due domande innanzitutto ti chiederei cosa consiglieresti a quelle persone che magari hanno dei sospetti o delle resistenze delle paure e che sono un po indecise se provare o no la pratica cosa ti sentiresti di dire loro e a provare non perdono assolutamente niente c'è un win win anche nel momento in cui l'inizio può sembrare posta seguire diciamo le regole del gioco che che di solito diamo quindi no nessuna paura semplicemente rispondere ad un paio di domande fare un paio di domande e per chi volesse invece diventare un praticante filosofo semplicemente che che vengano da noi che ne parliamo tutti insieme ci formiamo tutti insieme e che ampliamo la nostra comunità senza paura ok senti io avrei finito con le domande però se vuoi dire un'ultima cosa che ci tieni a dire fallo pure niente di particolare no va bene così belle domande vedo che stai mettendo in pratica l'arte della della sintesi e l'arte di autolimitarsi brava francesca ho imparato si può imparare vedi questa è la conferma performativa che la pratica filosofica ha avuto un effetto trasformativo su di te sono proprio la prova pratica che funziona va bene francesca ti ringrazio per questa chiacchierata e ci vediamo presto grazie a te buona giornata